Siamo all'interno del Museo dei Dinosauri, che è una delle visite che è possibile effettuare durante queste giornate verdi nel parco, insieme alla visita della lama e ai laboratori naturalistici e ambientali dedicati a tutta la famiglia. Potrete anche visitare la mostra Ristrutturazioni dell'artista Antonella Berlen, dedicata al riuso di materiali inquinanti. Questa mostra si chiama Destrutturazioni e nasce dalla volontà di dare un significato diverso al materiale in plastica che noi incontriamo nei nostri acquisti e nell'uso quotidiano. Parlo di bottiglie in pet per il contenimento di acqua e di altre bevande o di tutti quegli altri materiali in plastica leggera che servono a contenere insalate o tanti altri elementi. Lavorando questo materiale in maniera indolore dal punto di vista ambientale, ho cercato di dare un senso a quello che potrebbe essere il sogno di una bottiglia. E attraverso questo input ho cercato di tirar fuori tutto quello in cui magari una bottiglia avrebbe voluto trasformarsi. E sono venuti fuori monili, femminili, collane piuttosto che anelli, piuttosto che punti luce e anche utilizzando le etichette della stessa bottiglia, delle illustrazioni artistiche in onore davvero della nostra vita quotidiana. Fino al 22 ottobre prosegue anche il Festival dello Sviluppo Sostenibile, all'interno del quale sono previste appunto visite alla lama, visite al Museo dei Dinosauri e laboratori partecipati con i bambini, con gli adulti e per tutte le famiglie. Obiettivo di queste giornate verdi nel parco è sensibilizzare la popolazione al rispetto della natura e sono realizzate grazie al bando ambiente della Regione Puglia. Le giornate verdi nel parco si svolgono all'interno del programma del Festival dello Sviluppo Sostenibile che è stato organizzato anche quest'anno dal Centro per l'Alta Sostenibilità dell'Università degli Studi di Bari. Le iniziative che si svolgono a Villa Framarino e nella Lama Balice sono coordinate da ABAP con la collaborazione di Tracce Verdi e di altre associazioni che fanno parte del CEA Villa Framarino. Tutte le iniziative in programma, visite guidate alla Lama, visite guidate al Museo e laboratori sono assolutamente gratuiti e sono dedicati a tutte le età.